Applausi Nel corso della serata, alla presenza del Vescovo di Foggia Francesco Tamburrino, è stato annunciato il finanziamento di un totem informativo che sarà collocato nella Cattedrale di Foggia. Il totem racconterà dell'intervento di ristrutturazione della stessa cattedrale, riconsegnata alla città e riaperta al pubblico da qualche giorno. Oggi 29 ottobre 2012 inauguriamo la nuova filiale di Foggia nella città di Foggia, una nuova realtà a servizio della comunità di Foggia, all'ingresso della città di Foggia ma comunque molto vicina al centro della città di Foggia. Oggi sicuramente mettiamo in atto la prima azione del nostro piano industriale 2012-2014, rivolto proprio a quel processo di integrazione che abbiamo avviato ad inizio di quest'anno, un processo che vede l'integrazione della banca con tutti gli attori economici, sociali e le famiglie delle comunità dove la banca di credo cooperativa opera. Oggi parleremo di finanza del credo cooperativo e di sviluppo locale, cercheremo di fissare quali sono gli elementi fondamentali per costituire un sistema locale e definire un'idea progettuale, chiedere agli operatori economici a livello provinciale di partecipare a questo processo di politica economica e territoriale, confrontarci con loro e quindi creare un gruppo di lavoro che veda la banca di credo cooperativo attore principale per tutto ciò che riguarda la finanza e il credito ma anche tutto ciò che riguarda l'assistenza e l'accompagnamento allo sviluppo di nuove imprese e all'accompagnamento di imprese già esistenti. Oggi è primo passo, tra un mese ci sarà un ulteriore incremento del nostro progetto di sviluppo locale, quindi del nostro piano industriale, tra un mese ci rivedremo a Sansevero dove anche lì la banca aprirà una nuova filiale, questo è un semplice trasferimento, a Sansevero aprirà una nuova filiale proprio a supporto dello sviluppo delle economie degli operatori che operano nella comunità di Sansevero. Ergonomiche, ergonomiche, bello!